presentiamo due progetti che però si muovono diciamo sullo stesso ferrugio quello della narrazione del nostro territorio da tempo infatti stiamo sottolineando con tutti gli operatori del settore le associazioni impegnate in questo campo come la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio passa per un'adeguata narrazione che diversa dal racconto perché la narrazione coinvolge l'utente va a toccare il suo vissuto la sua sensibilità e lo rende parte attiva e non fruitore passivo di quello che il progetto appunto museale oppure artistico e quindi presentiamo oggi sei borse di studio che verranno appunto finanziate alla facoltà di scienze della comunicazione grazie ad un protocollo d'intesa che oggi firmeremo con i preside corsi che impiegherà diciamo così tutte le risorse culturali della facoltà quindi sia i docenti che i ragazzi nella redazione di un testo sul palazzo melatino un testo che non è stato mai realizzato che narrerà la storia di questo palazzo della sua ristrutturazione e anche come esso si intreccia alla storia della fondazione tercas e alla storia di questo territorio e d'altro canto nell'ambito della narrazione le metodologie nuove e che vengono adottate oggi verranno rappresentate dal progetto relativo ad atri ipogea un progetto che vedrà domenica un convegno che si svolgerà ad atri in cui ci sarà modo di incontrare gli animatori anche di napoli ipogea e quindi del progetto d'eccellenza sulla appunto sull'animazione sulla narrazione del patrimonio ipogeo delle nostre città d'arte e che appunto metaforicamente ben rappresenta questo patrimonio che in qualche modo è nascosto e celato e che va raccontato perché tutti possano sentirsi un po' esploratori un po' indiana jones e quindi vivere la scoperta dei patrimoni culturali come un'avventura questo dibattito siti culturali aperti chiusi lanciato da cittadini in comune voi siete stati un ballo e avete già avete già risposto sì noi siamo stati tirati in ballo per quanto riguarda il museo del leo il mosaico del leone chiedo scusa che avremmo assolutamente voluto assicurare alla fruizione della città tant'è che abbiamo proposto anche alla proprietà di acquistarlo la proposta non è stata accettata e questo naturalmente è nelle prerogative di chiunque possegga un bene per quanto riguarda invece i nostri interventi di recupero essi sono legati naturalmente a realizzarsi di certi estremi di certe esigenze di carattere formale legale che non abbiamo avuto modo di realizzare ma onestamente siamo tranquilli riguardo al nostro operato anche perché tutte le nostre interlocuzioni sono state affiancate dalla sovrintendenza che appunto ci ha accompagnati e segnalato i percorsi più adeguati quindi naturalmente non ci arrendiamo speriamo che in qualche modo questo mosaico possa essere restituito alla città e siamo sempre disponibili a collaborare con gli attori culturali del nostro territorio